cari amici e cari fratelli pace del signore gesù eccoci nuovamente insieme per ascoltare un culto della nuova era cioè quello registrato nella nostra comunità a partire dal 9 settembre 2001 vi auguro un buon proseguimento di ascolto nella pace del signore gesù alleluia benedetto tu sei signore alleluia 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 siamo qui o signore davanti a te nella tua casa alleluia per adorarti per offrirti signore il sacrificio della lode alleluia il soave profumo della sera alleluia gloria al tuo nome salgano a te o signori i nostri pensieri i nostri sentimenti il tutto della nostra vita alleluia 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 e che ti siano veramente come soave profumo insieme a gesù che con te lo onoriamo e lo benediciamo ora e sempre in eterno alleluia alleluia di lodi un trono ti prepariamo alleluia perché tu o signore sei re e sapete mi è venuta alla mente il signore mi ha fatto venire alla mente quando gli chiedevano quando sarebbe venuto il suo regno lui per regnare ecco il regno di dio dice ecco gesù ha risposto il regno di dio dice dentro di voi alleluia sapete è proprio è stato come sempre come un flash che il signore mi ha dato da capire vedi in quell'istante appunto quando gesù parla noi sembra che lo comprendiamo ma è così profondo nel suo parlare che noi non comprendiamo neanche la minima parte di quello che insomma lui ci dà però quel tantino grazie a lui per farci capire qualcosina allora mi ha fatto dire questo quando gesù ha detto loro dice ecco perché loro gli chiedevano dice quando verrà il regno di dio no allora dice il regno di dio è dentro di voi scusa è un corso come può essere detto se ancora deve venire il regno di dio no quindi gesù apparentemente ora non c'è come ci parlava il negodemo e il negodemo cadeva dalle nuvole dice come può nascere di nuovo quando è vecchio ecco allora il signore guardate quello che un istante fa mi ha fatto capire quando lui gli ha detto il regno di dio è dentro di voi perché il regno di dio gli ha voluto dire è già dentro di voi è incominciato dentro di voi perché io sono con voi e quindi chi crede in me chi accetta a me io vivo in lui e lui in me quindi il regno di dio è dentro di voi alleluia amen questo è stato un istante così ecco sono cose vedete che il signore mi dà sull'istante così tipo flash quindi ha detto vedete perché infatti da quel momento loro non hanno cominciarono a vivere nel regno religioso spirituale che avevano diciamo osservato tutte quelle regole quelle leggi amen quindi loro erano vissuti in un regno effettivamente prettamente umano perché anche gli scribbi farisei sacerdoti non è che ne osservavano ne facevano osservare la parola di dio per cui tutti quanti si trovavano ora al di fuori del regno di dio amen perché guardate se i sacerdoti gli scribbi farisei si fossero trovati nel regno di dio avrebbero riconosciuto avrebbero accettato gesù e avrebbero continuato a vivere nel regno di dio invece loro già erano fuori del regno di dio amen e quindi ecco ciechi e guide cieche non entrate voi e non fate entrare neanche gli altri dice quelli che vorrebbero entrare nel regno dei cieli amen rivolgendosi ai sacerdoti cose perché dice ciechi perché voi li state ammaestrando male li state guidando male non li state guidando per il regno dei cieli li state guaragno per il regno dei morti amen gloria a dio invece ora che gli apostoli vedete avevano accettato gesù avevano perché lo stavano seguendo amen allora ecco il regno di dio è dentro di dio è dentro di voi quindi noi noi tutti noi mi riferisco a tutti quelli che ci stiamo sforzando di fare la volontà di dio con onestà con sincerità e con lealtà stiamo vivendo nel regno di dio è una cosa meravigliosa ecco e noi ti proclamiamo re alleluia di lodi un trono ti prepariamo perché tuo signore sei re quindi noi infatti anche questa sera noi vivendo nel regno di dio di visto allora stiamo gli stiamo preparando mediante la lode che gli offriamo quindi l'obbedienza il tutto gli stiamo preparando diciamo questo la sua venuta quindi questo regno nel quale lui deve regnare non solo a livello spirituale ma a livello anche fisico materiale perché quando gesù tornerà tornerà con un corpo di carne tornerà con un corpo di spirito no no noi se ci possiamo permettere lo possiamo pure toccare gloria a dio e infatti quando quando i discepoli lo videro salire in cielo e erano tutti lì perplessi sbalorditi sta salendo in cielo a te sta volando gli angeli dissero perché vi meravigliate questo gesù che avete che avete visto salire in cielo ritornerà lo rivedrete nuovamente ritornerà alleluia amen quindi ritornerà in spirito ritornerà e infatti dice nella medesima maniera che l'avete visto salire lo vedrete scendere quindi sempre con il corpo di carne come quando ecco si presentò a porte chiuse ai discepoli vi ricordate che che lui entrò a porte chiuse senza senza bussare né niente non è che è stato maleducato ma lui vedete lui è entrato a porte chiuse perché fratelli guardate che tutte le cose che gesù ha fatto anche se apparentemente si potrebbero sorvolare non si devono sorvolare noi le sorvoliamo tutte le volte che non riceviamo una spiegazione da parte di gesù stesso mediante il suo santo spirito allora sorvoliamo perché non sappiamo non vogliamo inventarci delle cose ma nel momento in cui lui ci spiega il perché lui ha fatto e continua a fare determinate cose allora noi vedete dobbiamo ubbidirli e allora perché gesù è entrato a porte chiuse non poteva a bussare no avrebbe bussato chi è non anzi in un certo sarebbe stata la stessa cosa perché dice guarda chi è che bussa io che saranno i soldati io saranno no no però loro chiedendo chi è lui avrebbe risposto dall'altro lato della porta no avrebbe risposto sono io gesù il vostro maestro loro lo avrebbero riconosciuto alla voce amen perché lui si sarebbe fatto conoscere alla voce al suono della voce amen e quindi gli avrebbero aperto tutto sarebbe andato bene liscio no e allora dice ma perché allora è entrato a porte chiuse gesù diciamo è entrato a porte chiuse dopo la sua risurrezione per farsi vedere dagli apostoli sapete perché per per dimostrare loro che lui è veramente figlio di dio lui lo ha fatto per dimostrare che come figlio di dio nessuna cosa è impossibile quindi per lui vi è forse qualcosa di impossibile per l'eterno chi è impossibile già sarà poti chiusi ecco allora quindi per affinché gli apostoli si rendessero conto che gesù è veramente dio figlio di dio ed è dio perché ancora sapete loro non avevano ricevuto tanto ancora lo spirito santo altre cose non avrebbero potuto capire certe profondità e quindi gesù doveva manifestarsi in una maniera molto più semplice quindi allora e dice ma come può fare per riconfermarci quello che gli scienziati dicono oggi è quello che abbiamo ricevuto noi mediante la rivelazione che gesù è quella massa che riesce ad attraversare anche i corpi duri i corpi solidi amén li riesce ad attraversare oggi noi come almeno per quanto mi riguarda perché il signore dandomi la rivelazione mi ha dato da capire questo ecco quindi mi è più facile ora capire il come perché appunto e allora seguitemi attentamente quindi il signore quindi ora prima prima della sua morte e la sua risurrezione lui non poteva passare passare entrare a porte chiuse perché non era stato ancora glorificato cioè non aveva ancora ripreso la sua natura divina ancora lui aveva la sua natura umana nato da maria vergine come quando noi rivestiremo il corpo incorruttibile allora noi rivestiremo vedete quella parte spirituale che se necessario anche noi entreremo a porte chiuse ora no amén e allora vi porto questo ecco il signore mi ha dato questo esempio bellissimo ripeto guardate che pure i piccireddi guardate che se io ci domando un piccireddo lui mi ripeterà la cosa giusta allora a casa vostra a casa vostra a casa vostra ce l'hai tu a radio a casa? l'hai radio a casa? ah meno male così capirai quello che il signore mi sta a dire allora tutti abbiamo la radio amanti pure io ho la radio a radio allora non facciamo un radio messaggio cristiano solo abbiamo la radio no allora abbiamo quindi abbiamo la radio abbiamo la televisione oh noi per ascoltare la radio e ascoltare e vedere la televisione che gli apriamo botte e finirsi? no non ci credo perché la radio e la televisione a porte chiuse non può ciasciare oh no è giusto può ciasciare la radio e la televisione a porte chiuse non può ciasciare oh ciasciare la porta siamo già per finirsi oh no allora lo spirito di Dio essendo energia essendo ecco formato di energia luminosa che è ancora più potente delle onde radio le onde elettromagnetiche le onde radio ecco come la radio la televisione entra nelle nostre case a porte chiuse Gesù essendo spirito dotato di questa energia entra a porte chiuse più che la radio e la televisione capite perché voi potete sempre scherzando scherzando perché dici come può fare questo ci dimostra eh ci fa capire cioè la rivelazione che il Signore mi ha dato perché se non fosse in quella maniera Gesù non poteva entrare a porte chiuse fratelli alleluia